Scegliere non è mai stato così facile. Ho scelto Dierna per costruire il mio presente, arricchendo il mio sapere, imparando nuove lingue, scoprendo i segreti dell'economia e progettando la mia città ideale. Ho scelto Dierna pensando al mio futuro nel mondo dell'edilizia, nel mondo dell'economia, nel mondo del turismo, nel mondo della sanità e nel mondo della meccanica. Scuola Dierna, impegnata nel presente, proiettata verso il futuro.